Elisabetta Tassinari, prima vittoria in campionato, c'era bisogno per fiducia dopo un precampionato con qualche difficoltà e dopo una supercoppa persa ma comunque lottata contro Venezia? Sì, è stata una super vittoria al Cardio Palma, quindi un inizio in salita, poi era proprio quello che ci voleva per questo nostro esordio di stagione. Come sapete siamo un po' decimate, ci mancano tante giocatrici importanti, ma è un bellissimo segnale che chi c'è è presente e pronto a vincere le partite che contano. E' una vittoria veramente corale di un gruppo che dall'inizio della preparazione si è fatto un mazzo tanto per arrivare a questa partita pronte. Io sono molto orgogliosa della squadra e adesso aspettiamo tutti i nuovi innesti e veramente è un inizio col botto. 21 punti, MVP di serata, la maggior parte di quali nel primo tempo, nel secondo tempo invece al servizio della squadra, proprio alternanza di giocate individuali e giocate di squadra, soprattutto in difesa. Sì, certo, per me è andata molto bene, le mie compagnie mi hanno cercata, mi hanno trovata e ho realizzato, però insomma, come dici, io veramente parto sempre dalla difesa e mi concentro nel fare le piccole cose che servono alla squadra. Poi se in attacco va bene, ancora meglio, però ecco come appunto abbiamo detto, sono pronta a difendere e a dare una mano continuamente ai miei compagni di squadra, poi prendo quello che viene. Grazie a tutti.